Buongiorno, sono molto contento di essere qua un po' a caso, devo dire, però sono molto contento di presentare questa conferenza che ha un titolo molto ambizioso, perché ciò che rimarrà sarà la bellezza e quella che tutti noi ci auguriamo, ma è un auspicio, un augurio, che veramente sottolineerei io per primo come il nostro possibile futuro. I due conferenzieri sono due persone molto qualificate in questa direzione, Francesca Torzo insegna oggi a Mendrisio, che fu un percorso dall'Olanda alla Catalunia, che l'ha portata a Mendrisio, che è là dove si è lavorato con un personaggio così singolare, con Peter Zumthor e anche con il World Concept. Francesca ha vinto molti premi. Un povero, un campo architettonico non è così banale, ha vinto il premio internazionale filanese nel 2018, ha vinto il premio italiano, quello della Trennano di Maxxis nel 2020, ed è tra i cinque finalisti del premio di Sonne d'Errore di quest'anno. Peter Zumthor è un carissimo amico, mi ha piaciuto tenere il sapere di presentarlo, è stato decente da tante parti, grazie, come a New York, ma ha segnato soprattutto questo Politecnico nella Fattatura di Architettura, è stato a mio braccio destro quando facevo il preside in questa facoltà. Peter Zumthor è stato nella sua vita, io l'ho conosciuto quando aveva 27 anni, ed era radattore giovanissimo di Casabella, di cui è stato radattore, capo del 2002 all'1996, ha insegnato in molte università, tra cui, se sottolineerei, soprattutto la Columbia University ha insegnato in Cina, dove è stato direttore in questa università, che metteva insieme cinesi e inglesi, cioè quelli che li hanno conquistati e quelli da cui si sono liberati. Scherzo un po', perché la tecnologia è troppo forte. A voi, la parola. Grazie Carlo e buongiorno a tutti. Allora, due brevissime parole di introduzione su come abbiamo pensato di costruire questo dialogo con Francesca Tozzo. Francesca Tozzo, che è un architetto emergente, che è un'opera importante, già importante, e l'idea del dialogo è che non sia qualcosa di agio grafico, una solita conferenza, però un dialogo che parte da una conversazione che abbiamo avuto partendo dal suo archivio, dall'archivio visivo, perché chiaramente l'architetto si costruisce anche attraverso immagini e attraverso immaginari, e quindi ho deciso poi di costruire questo dialogo attraverso quattro opere, due opere realizzate, una solo progettata e l'ultima che si avviera verso il cantiere, quindi partendo proprio dalla formazione fino al lavoro attuale. Il primo lavoro è molto particolare perché è stata la tesi di Laura di Francesca. Francesca ha studiato all'Uav di Venezia, con poi anche esperienze erasplosite nazionali, e poi nell'ultimo anno ha vinto una borsa per trasferirsi all'Accademia di Architettura di Mendrisio, dove oggi, come ha ricordato Carlo Olmo, insegna il professore di progettazione, si è trasferito per un anno di lavoro, avendo conosciuto Peter Zumto, che ha accettato di prenderla per la supervisione della sua tesi. Come vedrete, è un lavoro molto particolare perché fin da quel momento, ancora nella formazione, ha dimostrato un'incredibile passione per la costruzione. Cioè noi preferiamo più che usare come architetti, più che usare la parola tecnologia, anche se la tecnologia esiste, la parola tecnica è ancora di più la parola costruzione. Quindi la cosa fondamentale è che Francesca è un architetto che veramente pensa che l'architettura va costruita, e la costruzione fa parte non solo del mestiere, ma anche, come vedremo, della poesia della costruzione, la poesia dell'architettura e anche questo tema della bellezza, che tornerà perché è quello che è stato dato come titolo. Quindi si trasferisce a Mendrisio e realizza questa tesi, che è una vera tesi sperimentale, che ha come interesse che mette in gioco non solo un progetto con la base tradizionale, ma decide effettivamente che questo progetto deve essere testato anche nella sua attura di costruzione. Quindi cominciamo con le immagini. Però prima di questo, Francesca, volevo ricordare il suo legame con Tolmo. Volevo ringraziare l'architetto Olmo, verso cui ho un enorme rispetto, e Piera Len, che è ancora incredibile, è stata ora immensa, di questa occasione per condividere, come ha detto Piera Len, di condividere domande e valori. Quindi non è una geografia. Torino è una città per me molto importante, perché ospita il lavoro di due professionisti. Alessandro Antonelli, le due immagini della mola antonelliana e dell'opera di Nervi distanti, perché è un dialogo distante. E io credo nei dialoghi distanti. Sono due professionisti che hanno avuto il carattere di affrontare, dedicarsi con passione alla tua professione, con umanesimo e competenza professionale. Per cui hanno affrontato vincoli di vario tipo, in un caso con Antonelli, tutta una serie di difficoltà e vincoli, promessi di costruzione, di vincoli economici, dove tutte le difficoltà statiche erano l'ultimo problema, visto che aveva, intelligenza, coraggio e a dire. Dall'altra parte, Nervi operavano il primo dopoguerra, con scarsità di mezzi e grandissima necessità di avere padiglioni per la produzione, per esempio, ma entrambi hanno sempre dedicato la propria vita con una sorta di umanesimo, ossia investendo in maturità tecnica e maturità culturale, che è stato poi un po' il cuore del numero 206 di Casabella, del 55, quando Ernesto Natarrodi si interrogava tradizione e modernità, la tradizione e l'architettura italiana. Quindi, ringrazio tutti quanti per questa occasione. ti faccio la prima domanda legata a questa tesi che decidi di fare una sperimentazione con la pietra armata. Ti chiedo perché la pietra e che relazioni con il tema di questo archivio delle acque la tesi di laurea era una ricerca che andava da una professione sul contesto e poi dopo tracciava i primi segni per un'ipotesi di un edificio. E come abbiamo condiviso le nostre chiacchiere per me è sempre la ricerca le domande iniziano da una professione sul contesto che è materiale e culturale. e riflettendo su tutto quanto una memoria della città di Padua che è legata alle mura e alle acque ho costruito una sorta di archivio di studio delle varie macchine idrauliche che ho anche studiato delle cose costruttive. E allora la domanda come si fa ad appartenere ad un luogo senza citarne forme, figure o teghe costruttive che non si possono riprodurre? Ed allora la scelta è di sviluppare un edificio che di fatto potremmo in due parole raccontare come una costruzione a secco in pietra portante ma in lasso di pietra. Quindi quando potremmo vedere le immagini è un po' come avere dagli occhi un castello di carte ma di pietra. Perché la pietra oggi è cara. Non possiamo immaginare di costruire come in epoche non andiamo agli egizi, no? Ma costruire in blocchi di pietra è arghito economicamente. Qui abbiamo appunto un molo che in realtà è dell'inizio 400 proprio di Pontarini a Padova dove c'è un si sa che conosciamo molto bene che è di zancature della pietra, no? all'epoca fatte con delle fusioni in piongo e volendo utilizzare l'asse di pietra per la costruzione che mi sono spesse 100 mm e poi dopo sono 1000 mm di altezza fino in realtà a un minimo di 400 ho zancato la pietra ma a secco. È un edificio pensato per stanze ma stanze non per amore della stanza perché tettonicamente la costruzione deve essere concatenata ossia sono dei muri cavi con una costruzione in l'asse di pietra dove si dispone l'astra di pietra sull'asse di pietra con l'ancoraggio di un'altra l'asse di pietra attraversa quindi un castello di cappe in pietra. importante tracchite due volte e poi le organi quindi una pietra molto densa con un talone d'achille che sono intrusioni di ferro e l'immaginario quindi sono muri paralleli che sono poi collegati tra di loro ad altre lastre di pietra esatto e zancate tutte insieme esatto come si vede nella pianta ossia aria in mezzo lastre dei traversi cosa produce questo? quando le lastre sono più basse in altezza quindi più minuti alla vista in alzato in realtà ho più traversi perché corrispondono al formato quindi la conseguenza è che ho più massa dove vi sono le lastre più piccole e invece meno traversi quando le lastre sono in formato maggiore quindi esatto che è fondamentale per la statica per quello una volta si facevano tutte le costruzioni delle murature antiche o meno antiche avevano i ponci più grandi per dimensione alla base della muratura e poi dopo quando si cresceva si snellivano e qui invece l'espressione è come l'opposto ma in realtà la logica il principio il principio dei pesi è il medesimo e andando avanti chiaramente parlare è una cosa ma io trovo sempre molto difficile per il mio senso di limite che ho molta paura di sbagliare e dire stupidaggini ho chiesto di sviluppare con l'ingegnere Urconcet una prova di carico e allora quindi questo era il plastico che scala era? 1 a 5 1 a 5 e viene realizzato prima a Mendrisio nell'automodello come si realizza fisicamente questo plastico? si va a caccia della ditta magari si mette una mano sul cuore perché sei laureanda e fa un buon prezzo per il taglio delle lastre poi si cerca un'altra ditta che si mette la mano sul cuore fa un buon prezzo per il trasporto per il trasporto il trasporto in realtà ero in macchina proprio e poi per il taglio aggetto d'acqua in modo tale da e poi dopo le zanche le ho saldate io è importante perché sono saldate con custom d'argento il che vuol dire che è una saldatura contenuta strutturale una saldatura continua un po' come fanno anche il tour e le parti delle moto i motori delle moto ma era importante perché hanno funzione statica per impostare tutta la muratura senza eccentricità e dove viene fatta la cova di tempo? a Coira e questo è un immenso dono che ho avuto dall'ingegner concert che vedete qui festoso mentre io ero terrorizzata a rompersi della struttura e io ho imparato con una vera prova di carico vuol dire arrivare a rottura abbiamo in quanti chili eh in quanti chili che è necessario disporre dei fogli di alluminio per assorbire il le micro eh la rugosità della pietra impercettibile ad occhio in realtà produce dei microcarichi di punta e quando si ha una roccia molto compatta con un tono di ferro in realtà è critico perché è come una martellata quando già c'è un po' una linea di fessurazione preferenziale e l'altra è che tutta questa costruzione per muracare di pietra era pensata per essere messa poi dopo a compressione quindi in realtà vi era un carico c'erano dei tiranti di rida che avete visto prima nelle nei disegni a matita perché in realtà tuttora disegno a matita ma la tesi di laurea l'ho fatta tutta a mano e infatti la torre del progetto che era a chiudere acque era proprio la sola e limite di stabilità della struttura il modello rappresentava tutta la struttura solo una parte era solo un test sulla muratura sulla muratura poi dopo avevo fatto il modello uno a vengere l'intero edificio giustamente perché c'era anche un edificio va da un edificio ecco e volevo fare un commento su queste fotografie che sono anche molto molto belle torniamo su questo tema della bellezza vediamo da un lato una ricerca effettivamente per come far stare in piedi questo cassero di carte dall'altro c'è proprio una una ricerca di un linguaggio perché troviamo effettivamente un linguaggio che per certi aspetti è quello tradizionale della pietra fatto di che rappresenta quello che storicamente erano dei blocchi sono dei fogli quindi quando uno vede questo non pensa che siano delle lastre molto sottili perché l'immagine che viene data si vede anche sull'angolo è un'immagine di forte di forte compacità dall'altro lato il fatto che le queste lastre siano slittate l'una all'altra fa sì che immagino che il muro appare più incatenato cioè il fatto che non siano allineati i giunti che non siano allineati in realtà sia un problema statico che un problema effettivo di espressione sì è necessario che non siano allineati per ragioni statiche poi dopo la misura e il proporzionamento dipendeva da molti più fattori questa è la cosa che abbiamo discututo tante volte insieme no? è difficile che un progetto nasca da una sola motivazione e penso appunto tutto il nostro lavoro dell'arte sulla bellezza che la bellezza è la dignità dei molti in senso albertiano non è la bellezza un canone estetico per questo quando tu parlavi della partitura dei conci forse esprime non so se riesco bene ma io cerco sempre di appartenere a un discorso molto più vasto della mia breve vita come persona e come professionista qui ed è per quello che sempre l'ossessivo interrogativo è assumendo che è un dato di fatto che non si possono riprodurre modi e anche i linguaggi che discendono da modi di costruire di tempi in cui ci hanno delle condizioni materiali specifiche una availability una disponibilità immateriali che magari ora non c'è oggi ne abbiamo altre come fare a coltivare un dialogo culturale con tempi apparentemente distanti cos'è la modernità quando sono un soffio di 50 o mettiamo anche 80 anni rispetto a millenni ma sono domande nessuna pretesa di avere verità bene dire passiamo al secondo progetto secondo progetto è questa occasione di mettere in pratica ciò che ho sperimentato in questo primo progetto della tesi dell'area di nuovo con la pietra per un contesto molto diverso perché siamo questa volta siamo a Sorano in Toscana sì in un borgo collinare molto ripido con vediamo questa fotografia in basso a destra i resti delle antiche mura e costruisci praticamente direte sulle mura dove la pietra è chiaramente la pietra la pietra del luogo in questo caso qual è il problema che ti poni alla base del progetto che è un problema di nuovo un problema di costruzione 5 metri di profondità fino a 1,80 per una casa con poi una grotta ma con la responsabilità di insistere sulle mura storiche del paese quindi l'interrogativo era come l'edificio è subito subito a destra della si vede no? sul bordo della fotografia subito al di sopra della torrice colare si vede la luce che traspare attraverso la porta no? si sono borghi detti borghi del tuffo proprio dove c'è il limite tra Toscana e Lazio e tutto il borgo è cresciuto di fatto scavando conci dalla rocca del paese e ponendo un concio sull'alto per costruire case con pochissima malta perché la malta era più cara e avevo a disposizione questo lotto molto piccolo che insiste sulle mura del paese l'interrogativo era con un piccolo manufatto che ha il carattere quasi di era utilizzato come una piccola cantina un pollaio come continuare la come non disturbare la nobiltà delle mura e a Viterbo vi sono le mura del paese che hanno una caratteristica specifica sono delle mura con come tenere la fotografia con i conci con i giunti allineati e chiaramente è una muratura a sacco dove vi sono dei prismi di tuffo e il tuffo dell'area appunto tra Toscana e Lazio ha un po' un tono di verde non è come il tuffo che incontriamo nel sud Italia che è più dorato e caldo e sono questi prismi di tuffo sono completamente annegati in una massa vastissima di terriccio di cocci di malta incoerente ma io il tema come fa un muro che normalmente ha un metro di spessore 25 25 3-4 metri di spessore 3-4 metri la casa quindi con 25 centimetri di spessore come fare? Allora è stata l'idea di costruire una muratura di nuovo a secco appunto per essere rispettosa dell'espressione del borbo pur essendo molto diversa di senza cancio sì ci sono un soffio per evitare l'intrusione di acqua e di insetti e sempre per distribuire trasformare i carichi di punta della regolarità in carico in frumento distribuito e costruire una muratura di blefass di conci creati trapezionalmente dove da un lato sono allineati dall'altro non allineati dove vi sono angolari metallici che di fatto fanno una cerchiatura della costruzione che vi danno stabilità questo è il sintetico schema è un lotto irregolare che va a colmare tutto il sito a disposizione quindi proprio a bordo di orrido sono collocati ad ogni angolo degli angolari metallici che hanno una piastra centrale da 10 mm saldata strutturalmente con una piastra alla base che crea un incastro perfetto intendo essenzio statico un incastro alla base nel cordolo poi vi sono delle lame che sono solamente da 2 mm che hanno poi alla fine un piccolo tondo è come una fibbia che va ad agganciare ogni filare di pietra per cui mettendo tensione al mettendo in tensione il tensore a sezione piena all'interno è come se stringesse una damigiana è una cerchiatura quindi un principio di pietra armata si cerchiata cerchiata aveva fatto il sofflot per il pantheon no? eh beh sì anche i guarini di cui c'è guarini sì questo è molto modesto come legare col ferro ovviamente un amuratore di pietra è splendido perché nella storia esistono già tutte le soluzioni ai problemi la pietra era cavata dal posto? la pietra in realtà le pietre intorno a Sorano erano delle venature troppo giovani troppo cariche di ferro quindi erano troppo rosse e quindi avrebbero creato una dissonanza col paese quindi sono andata più a margine e queste erano a Riliano e sono infatti andata a selezionare i conci e abbiamo tagliati a un punto questo meno ferro quindi un po' più verde siamo tagliati a piano sega a Verona poi dopo con getto d'acqua in forma di trapezio abbiamo portato i conci in cantiere chiaramente il cantiere è molto difficoltoso perché è un contesto storico di Borgo dove la gru in carico di punta portava solo 150 dovevamo fare vari pacchetti i i muratori hanno avuto la malaugurata idea di aprire tutti quanti i pallet dei conci e mescolare tutto quanto più dopo era la follia della caccia al concio perché erano 56 tipi di concio e poi dopo c'è il cantiere che vediamo più in dettaglio ma il concio perché trapezoidale vi è un lato che è 120 e si ha 180 l'altro lato va da 120 a 60 il che vuol dire che quando andiamo qui dopo l'altro filare si crea un intreccio della muratura quindi ho un cuneo che va da 0 a 30 millimetri nominali che chiaramente la realtà non è perfetta come ciò che è nominale un intreccio che permette di avere una collaborazione conci fra di loro siamo in zona sismica ed è più grande le lastre il momento di disorientamento quando si cercavano i conci e poi dopo la messa in opera questo è il mio primo cantiere dopo la prova di carico e quanto è durato il cantiere? il cantiere per la costruzione è proprio durato sei mesi poi dopo per completare l'interno visto che era era per mia madre che è mancata quando ho preso la costruzione quindi ho dovuto guadagnare i soldi per costruirla insomma a formichina poco a poco ma la cosa interessante è che qui vedete appunto il principio molto elementare del fondamentalmente creare una catena per ogni filare il che vuol dire scomporre i sforzi è molto semplice poi era necessario mettere un peso sul manufatto perché appunto se non era sismico bisognava assicurarsi che arrivato lo schiaffo del sisma vi fosse un peso attenuta quindi abbiamo fatto un cassetonato metallico lacunare che in realtà era appunto composito in vari quadranti per poter per il problema della portata di carico della gru in modo tale che sempre venisse l'anima da 8 minuti li viene saldato in opera avvitato eh no avvitato perché saldatura in opera non gestibile con agio deve essere un lavoro molto rapido possiamo tornare alla fotografia di prima a destra che vediamo effettivamente un giorno già montati i tensori no? sì sono già montati i tensori sono che si vanno sulla fotografia quelle quelle sono la chiave la parte metallica la chiave di volta della struttura più della pietra e questi tensori li ho controllati fino adesso due volte il lavoro che l'hanno fatto è stato concluso nel 2008 e cosa vuol dire controllare? infilare uno sterro di metallo letteralmente fare leva perché hanno flettatura sinistorsa ed estorsa quindi facendo leva solo una parte si riesce a mettere in tensione e quindi si stringe si calibra e la tensione è misuata a mano direttamente ma si sente anche un rumore particolare come una come una corda musicale cosa è il mio cuore che batte quando ho paura che sia troppo blando no in realtà ha un po' di vibrazione in realtà si sente quando si tamburella e ha un suono però la cosa bella è che si scopre che noi cerchiamo sempre la stabilità nel costruire mentre la bellezza e questo Antonelli insegna è l'abilità ragionata controllata l'elasticità dove tutto si muove tutto si muove Alberti nel suo trattato diceva che persino quando si cavano le pietre vanno fatte riposare per sei mesi perché cantano e devono riposare quindi si si sente un suono ma e una volta era perfettamente ancora in tensione la prima volta e invece due anni fa ho dato un giro di penso un 8 millimetri andiamo avanti vediamo la foto dell'interno e quindi le le i piccoli cerchi che vediamo sono l'elemento di anche lì che un elemento di ancoraggio sì quindi la struttura in realtà è tutta visibile e gli impianti come sono fatti? gli impianti sono tutti quanti alloggiati alloggiati in delle gole perimetrali perché la muratura non può essere non possono essere tracce perché appunto non si può toccare il tufo che è la parte portante e infatti si vedono emergere il sull'agliatore del pavimento con i loro tubi dell'acqua poi ci sono gli steli per la parte elettrica ma quindi ci sono molte invenzioni in questa in questa piccola casa che ha una una disposizione dell'abitare all'interno che in realtà è più moderna perché non sono le classiche stanze la concatenazione di stanze della vettura vernacolare del borgo è più come un balcone facciato sull'orrido ma in realtà era molto importante per me far parte del borgo come come espressione è quello per me la parte sembra più interrogativa basta scegliere il tufo per appartenere ad un luogo cercando di prendere un po' di distanza dai meravigliosi scritti di Norbert Schultz ma cercando di rifletterli in altro modo è sufficiente trovare una misura di materiale o di concio per appartenere un luogo è sufficiente proporzionare il manufatto in modo tale che abbia delle forse di alve assonanze in realtà mi sembra che nulla di tutto questo è un po' tutto insieme interessante questo particolare scusa un altro commento l'inserimento della porta fa sì che i conci sul i conci lungo la porta in questo caso non sono trapezoidari sono telaio dritti oppure la sezione anche della del telaio trapezoidare sono un triangolo molto acuto sì e tu li segui c'è anche tu uno sguincio della porta del telaio sì arriviamo ad Asselt dove è una storia più lunga più complessa come nasce il progetto di Asselt? nasce con un concorso un concorso pubblico che era un open call internazionale che era un concorso interessante con un procedimento che sarebbe bello fosse più diffuso anche in altri paesi perché vi è una chiamata pubblica dove chiunque può partecipare poi vengono selezionati in un gruppo limitato di professionisti che iniziano un po' un dialogo che deve essere secondo criteri di informazione condivisa con un dialogo pubblico con la committenza ma anche le autorità pubbliche e quanti eravate? all'inizio eravamo in più o meno 700 il primo turno dove la selezione è stata fatta solo su capacità economiche 27 poi dopo hanno chiesto di scrivere di presentare un dossier a 4 dove si descriveva il lavoro senza produrre alcun elaborato e chiedevano di rispondere a tre domande come vi relazionate con il contesto storico come immaginate sia lo spazio per l'arte contemporanea domanda complessissima siete in grado di farlo quindi planning budget in 1 a 4 quindi l'ultima fase era palese che c'era anche il rapporto sì e quanti eravate nell'ultima fase? l'ultima fase siamo stati selezionati in sei e questi sei sono stati invitati per una proposta progettuale e gli altri colleghi erano colleghi di altissimo livello con già riconoscimenti internazionali con Asha, Delegater Ishigami Soil in tre io l'ho sconosciuta l'unica sì l'ho sconosciuta però adesso da questa fotografia siamo stati molto conosciuti perché abbiamo anche molte pubblicazioni su questo edificio e partiamo da questa fotografia che è molto molto intrigante perché vediamo questo grande muro sul quale torneremo un muro cieco e vediamo anche il rapporto con il muro dell'edificio preesistente quindi anche in questo caso il materiale è fortemente legato alla memoria del luogo quindi alla durata però nasce questo processo di forte innovazione rispetto al muro tradizionale puoi spiegare un po' di più su questo rapporto con la muro tradizionale e quello che ti fa scattare l'invenzione nel modo di mettere in opera il matrimo come dicevi è un contesto che è un beginnage quindi è una tipologia urbana in realtà tipologia sociale delle bechine in Belgio e Olanda dove vi erano è come un'isola una città nella città dove questo recinto di mura intorno al giardino è poliglotto e nel senso che vi sono il caso di Beghina nel settecento un museo di gin e forse ritorno all'immagine precedente un luogo dove producevano gin oggi diventato museo è di fine ottocento o invece vi è questo meraviglioso edificio nel 1958 che era nato come un museo quindi tutta una serie di edifici in mattone era un museo della fabbrica? no 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 museo d'arte della città museo d'arte della città sì e con una caratteristica molto particolare il progettista era l'ingegner Daniels adesso ho molto rispetto perché questa figura raccontavo prima no spirito classico anche nella computazione degli spazi ma fiero della modernità quindi una costruzione una struzione in calcestruzzo con cavità e poi dopo c'è serramenti che sono molto sottili al mondo delle fabbriche però ha tutta una serie di stilemi come il coronamento del tetto così come più dopo all'interno ci sono anche il decoro dei soffitti e dei parapetti e noi eravamo chiamate a fare un'estensione che vedete appunto sul lato destro della fotografia e l'estensione liderava sostenere quello che era sopravviso nei secoli ossia l'unità del mediraggio che vuol dire andare in accordo con la introversione del luogo un muro cieco verso la strada dove invece è tutta una filigrana di finestre aperte verso il giardino come costruire un laterizio quando ci sono poi tanti laterizi e con che formato quando tutti quanti i formati di mattoni cambiano per le diverse epoche lo spessore della malta dei giunti cambia il melage di argilla dei mattoni la cottura dei mattoni cambia in più è un edificio pubblico che erano chiamati a costruire quindi dovrebbero rappresentare da lì la scelta di sviluppare un mattone perché non è una mattonella legalmente è una mattonella perché in belgio puoi essere un mattone amministrativamente solo se sei profondo 60 mm invece se sei 37 ma pesi un chilo 750 grammi non sei un mattone però se casca la mattonella sul piede fa male è come un mattone quindi sono mattoni con titolo amministrativo mattonella come costruire e come inventare un formato di mattone che si integrasse che fosse che preludesse una costruzione solida in modo tale che il muro non fosse solamente una messa in scena figurativa ed estetica ed avere una muratura che avesse la natura chiaramente antica e solida dell'opus reticolatum quindi dove sfuma un po' dove la partenza del muro ma al suo tempo fosse lieve come un tessuto quindi da dove nasce l'idea della dell'osante? Da Pompei da Pompei dove vi sono tutte queste murature in tuffo dove il vento con salsedine ha consumato queste mura lasciando più visibile la malta perché è una malta principalmente a base di calce quindi molto tenace perché la calce è quella buona quella che oggi nessuno vuole fare perché è sempre come un children è difficile da lavorare e aveva questo carattere molto male tessuto mi sembrava consono per un edificio pubblico che ha il ruolo di rappresentare un luogo di incontro sociale dove un cittadino locale o straniero può incontrare delle domande delle narrative che possono insegnare educare o sorprendere far cambiare idea e quindi pensavo fosse importante che si fosse una componente di decoro non nel senso superficiale decorazione ma nel senso di rappresentazione della moltitudine dei cittadini quindi rappresentativo per questo anche l'involto delle finestre è importante è un'idea che c'è fin dall'inizio nel progetto di concorso o nasce dopo subito subito nei primi schizzi i primi schizzi i primi schizzi i primi schizzi erano una planimetria del contesto veramente grande come un francobollo la struttura delle stanze e il mattone con questa tessitura sì una cosa importante è che molto tradizionalmente uno pensa che gli architetti arrivano poi al dettaglio alla fine di un processo della costruzione mentre nel tuo caso l'idea costruttiva anche in scala uno a uno è all'origine e questo direi che è un po' una costante che abbiamo visto nella tesi di Laura che ti porti avanti che è la prima idea insieme un'idea legata legata al paesaggio in questo caso anche un passaggio urbano molto sedimentato con una lunga storia nel stesso momento di pensare già alla materializzazione molto importante quello che dici ma questo faccio una domanda su questo è qualcosa che che nasce da un con gli architetti arrivano nella costruzione quando devono affrontare il tema del cantiere però magari non era la loro prima idea di cos'è cos'è l'architettura cosa sia il ruolo dell'architetto nel tuo caso è una tua passione che esiste da sempre perché mi sono iscritta architettura per pospondere una scelta perché amavo studiare e carezzavo l'idea di diventare scrittrice o fisica e non politecnico così interessante cosa ho fatto che interiore le vocazioni in modo così e mia madre era insegnante di lettera e storia e mio padre che c'è ancora già come una persona intelligente e fisico e quindi ho avuto la fortuna di poter frequentare i laboratori e anche sentire tutte le infrastrutture degli insegnanti e quindi avere il dono ma anche da insegnanti incontrati nella mia vita l'onestà di competenza e pragmatismo una cosa funziona o non funziona la sai o non la sai e se non la sai non è una vergogna è bello studiare e scoprire di più e l'altro lato è quello di portare rispetto a una storia più ampia poi dopo ho avuto quando mi sono iscritta ad architettura appunto per non scegliere per poter continuare a studiare tutto ho avuto la fortuna di frequentare un'università di architettura a Venezia dove ai tempi vi era ancora accessibile l'ASAC di notte vi erano poi a Palazzo Badoer cicli di lezioni di storia commoventi con la guerra il Tower Burns e poi vi erano dei professori di costruttura di statica come Saetta poi vi era Carnel di geologia che erano un canto che ho avuto la fortuna di frequentare docenti e anche avevo sentito una conferenza bellissima a Torino del professor Olmo provenuta tra l'altro perché è un ricordo molto antico è proprio incantevole quando senti il sapore di che che dono è fare questa professione che è un osservatorio sull'umanità ma anche è così tecnica senza tecnica non puoi osservare l'umanità quindi non avevo il piano di diventare l'architetto ti ringrazio era un'osservazione generale che penso che ha risposto molto bene torniamo alla finestra effettivamente c'è questo lavoro proprio sulla profondità della finestra di rivelare il muro che è un muro che in realtà è un muro ibrido è un muro complesso sì però nella visione sia dell'interno che dell'esterno si misura questa grande spessore sì questo è un isegno per me molto importante mi immagino posso risultare guardato velocemente difficile è un tema di cui mi avevi parlato della tolleranza che è un tema sul quale interessa anche molto l'ingegnere si usa anche nella legge meccanica della tolleranza che vuol dire che è un modo di approssimazione alla precisione perché la precisione assoluta non esiste quindi come interpreti questo tema della tolleranza è scritto sul disegno c'è una tolleranza al ciclo sì in realtà quello è il displacement ossia è il movimento perché devo tornare indietro questa facciata che è una facciata solida lunga 60 metri ha solamente un giunto di dilatazione che devia la piegatura 30 metri senza giunto una muratura portante lo sconsigliano perché crepa quindi era tutta quanta l'invenzione l'invenzione è che la struttura è interna in cancestruzzo normale poi viene un stato di isolante che riconoscete e poi dopo vi è una muratura armata a più strati cosa significa? muri forati con armature orizzontali a 140 mm immersi in letto di malta bastarda poi vi sono degli strati armati prima con arma net che è una maglia in acciaio poi dopo con delle reti in polietilene per poi arrivare a il rombo che pesa quindi tutto questo si muove il che vuol dire da un lato questo più o meno 5 nel disegno vuol dire questa muratura la parte esterna della facciata solida che è una muratura portante si muove verticalmente più o meno 3 e orizzontalmente più o meno 5 vuol dire che tutti gli occhi delle finestre devono contemplare contemplare questo scarto ma chiaramente volevamo serramenti molto sottili per dialogare con l'edificio del 1958 quindi dove avevamo una precisione la tolleranza per il muratore di 3 mm per l'installazione ecco questo è molto interessante il processo proprio della costruzione della sperimentazione in cantiere perché immagino che la tua proposta all'inizio l'impresa di costruzione abbia detto dobbiamo parlarne perché sembra molto difficile ha detto come ha conquistato anche l'impresa di costruzione e direi soprattutto i muratori beh prima cosa ho fatto la gara d'appalto dove ho scritto il testo prodotto Gisegni che avevano dettagli dei viti ma anche del testo in un modo maniacale tutti quanti i vincoli anche sulla produzione dove senza scrivere il nome della ditta perché è una gara pubblica vincolavo alle ditte comunque ho sviluppato il prodotto della facciata perché io ho lavorato questo è un progetto di 15 anni di vita e lo studio della facciata sono stati 5 e ho avuto il dono veramente la fortuna di avere la fiducia e l'aiuto di ditte come pettersen come becker per il reinforcement di knauf omnicol e weber con cui abbiamo fondamentalmente sviluppato il progetto di questa facciata sperimentale che è stata fatta prima no per garantirlo e poterlo firmare con assicurazioni però poi dopo che lavori 3 anni non puoi fare il lavoro è immorale certo e quindi quella era una cosa la gara e poi dopo nonostante quello perché ogni volta che c'è una gara il costruttore c'è un team di costruttore che prende la gara poi quando arriva il cantiere cambiano tutti e quindi arrivano altri interlocutori prima cosa che fanno arrivano e dicono no lo facciamo incollando mattonelle sull'isolante e dico sul mio cadavere quello no e quindi quello che avevo fatto messo anche nella gara dovevano costruire un prototipo con uno che aveva costruito io le mie spese e poi dopo abbiamo sviluppato un dialogo e qui trovate Christophe Mutert Michael Gelux and Chris che sono i direttori di cantiere persone eccezionali e anche Chris che poi dopo è stato un po' il capofila dei quattro uomini solo quattro uomini che hanno montato tutti quanti messo in opera tutti i mattoni della facciata che hanno abbracciato la ricerca ogni volta ho cercato sempre di trovare un modo che fosse per loro più confortevole quindi il tema è del costruire un dialogo con i costruttori quindi quello che ho visto prima è un campione è il campione che hanno dovuto costruire sì prima ancora di iniziare il cantiere vero e proprio e qui vediamo il futuro del cantiere qual è stata la tua presenza in cantiere? io andavo ogni settimana il cantiere è durato 365 giorni lavorativi che vuol dire per praticamente 5.000 metri quadri quasi sei chi non ha di tanto è molto rapido in più non c'era praticamente non c'era spazio per il yard ossia per dove depositare le cose quindi molto complesso ma noi c'era il direttore di group che era molto bravo per gestire un po' l'economia del tempo e io andavo ogni settimana ma anche il team con un team della parte del costruttore avevo chiesto nella gara due direttori di cantiere sempre presenti perché era il mio primo edificio di questa scala avevo molta paura di non essere capace penso sia importante avere un senso di giusta responsabilità umiltà che quando si non si sa cercare di trovare strumenti per tutelare che le cose comunque vengono bene perché nessuno ha colpa della tua incapacità e poi c'erano due direttori di cantiere della parte del costruttore e poi dopo io ogni settimana ma ci sentivamo ogni giorno era uno scambio quotidiano ci sono stati momenti anche di crisi momenti dove certe decisioni hanno dovuto essere rimesse in gioco oppure difficoltà particolari più all'inizio più all'inizio 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 perché e poi anche alcuni sul contratto ci sono dei momenti in cui tu stesso dovevi prendere il mattone in mano per dire si fa così ah no quello è letteralmente successo perché adesso questo infatti è interessante che siamo su questa serie di slide di immagini perché immaginate 60 metri di muratura cieca dove però è molto preciso dove vi è eh l'incontro con le aperture perché eh vedete che sono resegate le aperture vi ha fatto rilevo prima quindi con 60 metri il margine di errore la tolleranza era di 5 mm se un muratore iniziava a costruire con eh distanziali regolare il spessore di plastica la facciata andava girata letteralmente con un giunco e mai avrebbe incontrato infatti la tolleranza per le murature viaggia più sui 20 mm che noi qui non avevamo quindi quello mi ha chiamato proprio il direttore di cantiera eccezionale che mi ha detto una domenica Francesca io proprio non so come iniziare è la prima volta che dico che non so come iniziare qualcosa e non che io lo sapessi io ho sentito che proviamo a immaginare come se lo facessimo io e tu insieme e allora abbiamo definito che era importante avere un'area un cono visivo di controllo per il muratore quindi abbiamo disegnato delle quadrature che sembra la scoperta dell'acqua calda beh è così quindi abbiamo disegnato questo reticolo sulla muratura e poi si procedeva con impostare impostare i conci i mattoni a rombo in questo metro e poi dopo si applicava veniva inserito la malta per il giunto che è un giunto a spessore perché altrimenti i carichi non si distribuiscono quindi quello che vedete è le mani sono un momento di posa di quel metro quadro dove la logica era anche per registrare la precisione quindi una volta impostato c'erano erano cinque minuti per impostare tutto quanto erano due minuti e poi tre per aggiustare un po' sul lasso del mattone in modo tale a distribuire tutte le regolarità per evitare e poi dopo per evitare le crepe sì e per evitare di andare poi dopo non incontrare la resega della muratura che combaciava perché una facciata molto impiegativa era quella una 60 metri presso che cieca ma l'altra anche molto vincolata con le aperture era ben complesso andiamo avanti sugli interni perché il tempo purtroppo corre quindi vi sono vari tipi di intonaco intonaco pigmentato in spessore abbiamo impiegato circa sette mesi per mettere insieme dite perché firmassero fuori di assicurazione io ho controllato di persona ogni mattone quindi proprio veramente e quindi prima c'era un segno di gesso che io segnavo ma non perché fosse perfetto io ritengo la perfezione noiosa amo infatti i magistretti quando si va a cara rosio è un gioiello perché ha le giuste rughe ma non solo del tempo è la rughe del vivere però quando una cosa è fatta con poca cura è offensivo allora mi interessava che non vi fossero troppi accenti di fuori luogo per esempio segnavo se il giunto di Malta aveva un rilievo eccessivo perché la luce nella facciata è solo radente quindi inevitabilmente o non solo la facciata diventa alla scala della facciata quindi troppo violenta in fuori scala allora velocemente dobbiamo procedere sugli interni due domande una che riguarda il soffitto perché troviamo questo motivo dei rombi però anche delle curve quindi del fatto di una certa irregularità del soffitto e l'altra domanda è legata all'impianto questo è un tema importante perché soprattutto per un centro d'arte contemporaneo il fatto che gli impianti in un certo senso non dovessero essere visibili dove c'è dietro l'apparenza dell'architettura tutta una macchina che è quella degli impianti fare in modo che la tecnologia non si veda come dire che la bellezza è proprio del fatto di celare la presenza della tecnologia mentre la tecnica è visibile nei primi progetti della pietra armata perché è quello che rende visibile la staticità della costruzione in questo caso la tecnologia viene come nascosta perché lo spazio interno deve essere il più puro possibile puoi spiegare un po' come hai lavorato anche con gli ingegneri e con gli ingegneri degli impianti? la questa è stata molto anche urgente quello che hai sollevato perché oggi la tecnologia è come il vaso di Pandora è una scatola chiusa dove gli architetti non sanno niente non possono entrare ma neanche vogliono entrare invece è bellissima in questo caso aveva insegnato al direttore artistico che il suolo è molto importante per i curatori deve essere un orizzonte chieto non posso vedere griglie e così le pareti e così i soffitti quindi la proposta è stata quella di introdurre un sistema che è noto si chiama Displace Ventilation ossia da queste fessure che vedete lungo la parete che è un'emissione a bassissima velocità di aria mentre poi dopo l'estrazione è concentrata in dei punti e dolcemente viene fatto il ricambio abbiamo anche misurato la velocità per verificare che se non so devono installare un'opera d'arte delicatissima che è un soffione su una parete che l'aria non lo facesse scomporre e quindi tutto verificato va bene questo chiaramente vuol dire cadendo questo edificio che ha budget 1500 euro metro quadro che è poco è pochissimo è pochissimo e veramente e avevamo anche tutti quelli eravamo all'osso con il spessore delle strutture che sono adattate con le luci domestiche ma anche con i massetti e quindi tutta quanta la testa più diffusa doveva andare per canali molto piccoli che erano 90 millimetri di diametro tra alcuni in certi casi anche 60 millimetri di diametro e si distribuevano ad un massetto un po' alto che vuol dire che di fatto coprivano tutto il pavimento e quindi bisognava poi dopo predisporre un sistema di armature in modo tale che anche solo in cantiere non si danneggiassero i canali questo quando è proposto questo ma ancora all'inizio inizio prima del progetto preliminare la reazione è stata ah gli impianti spaghetti facendo lo scherzo e questo perché chiaramente un trovare soluzioni specifiche è spesso inteso da chiamiamoli cartelli di professionisti come una perdita di tempo perché uno non può estrarre il cassetto e applicare una tecnica o una strategia una strategia impiantistica che conosce ma in realtà in questo modo anche si fanno limitare enormemente i costi perché molto spesso ci sono le soluzioni più economiche che rispondono meglio a un programma di committenza ma anche un programma direi di cittadinanza che costano meno e funzionano meglio solo che è proprio necessario penso per quello di Corgente che tecnica tecnica tecnologia dialoghino Billing Correctly che era il titolo della conferenza di Natio 55 meravigliosa era proprio devono dialogare l'ingegnere il committente il costruttore per mettere anche l'impiantista quindi gli ingegneri ti erano stati imposti dalla committenza locale? in questo caso no li avevo ahimè scelti io ma senza conoscerli perché in fase di concorso chiedevano come pedigree per avere accesso al procedimento fatturato 2 milioni e mezzo di euro ma neanche io non avevo niente io ho cercato persone che avevano collaborato con architetti che ritenevo avessero un livello di esigenza di qualità di cose che funzionano perché se non funzionano insomma è anche stupido parlarne ma devono funzionare non devono abelenare la giornata e in realtà sono poi caduta in questa prassi ma che in realtà è diffusa ma in realtà persino il costruttore poi mi ha detto che era la prima volta con un'esperienza di cantiere di quel tipo ossia non riesco a capirlo sarà una domanda da condividere perché è così quando è successo che si è creata questa distanza tra costruttore architetto ingegnere che invece è questa è la vera domanda che nasce anche nelle scuole di tutta Francesca perché oggi non possiamo più portare anche i studenti in cantiere solo perché sono come i protocolli di sicurezza il fatto che farli uscire anche per strada a schizzare per la strada non ti lasciano più fare dicono che è pericoloso quindi nasce lì il problema che se sono oggi architetti che non vanno in cantiere e che non piacciono andare in cantiere perché non è lì per nascere questo amore della costruzione più dai tempi della scuola però è una buona domanda perché uno dei grossi problemi era sì anche perché poi dopo i professionisti non ingegneri locati non impianti viene delegato la responsabilità in realtà poi il costruttore era molto più contento del nostro dialogo dice ma che meraviglia che possiamo parlare delle cose all'inizio mi vietavano non erano contenti che io parlassi con gli artigiani perché avevano un contratto ero produttori però poi dopo questo è il classico caso la scala è una trave Virember in realtà fatta per saldature gli elementi come cano però funziona come una trave perché è vincolata solamente all'estremità e questo lo dicevano che hanno questo costo una follia e alla fine in realtà mi hanno chiamato per parlare con il produttore e invece era semplice perché tutto quanto ripetitivo si fa un modulo è più difficile calcolare è più difficile calcolare perché fuori dei protocolli standard di sicurezza di garanzie ma allora ti metti al tavolo con l'artigiano ti prendi un bel foglio e dici ragioniamo come calcoliamo le ore e alla fine vedi che risparmi ecco puoi spiegare un po' la questione così interessante che l'apparente irregolarità del soffitto in realtà è un modo di adattarsi alle regolazioni delle stanze sì perché chiaramente impianta condivisa oggi però il senso dell'edificio era di insediarsi armoniosamente e quindi inevitabilmente delle stanze in geometria regolare è un'estensione un ampliamento di un edificio classico che ha un tema di soffitti decorati rappresentativi che volevo continuare e quindi ho combinato più cose avere un dialogo con l'edificio esistente che andava ampliato e risolvere un problema di infrastruttura tecnica perché questo non è un museo non ha collezione permanente una galleria d'arte quindi era un'infrastruttura estremamente flessibile dove posizionare apparecchi illuminanti senza sapere dove sarebbe stata la necessità di disporre questi corpi illuminanti e poi dopo vi era necessità di mitigare la percezione dell'irregolarità delle stanze e anche di accompagnare una percezione di continuità tra gli spazi espositivi per questo è stato fatto uno studio geometrico che si sono vedete i vengono delle parole un po' inglesi gli adattatori erco che servono per disporre spot di vario tipo con diverse lenti che sono integrati in un cassetto nato che in un rilievo soffitto diamanti come viene chiamato dal costruttore che è gettato in opera ed è solidale al getto strutturale quindi non è pulistirolo non è neanche intonaco è calcestruzzo rasato con calce che mantiene sempre a distanza di 70 mm dalla muratura in modo tale a mantenere sempre visibile l'incontro tra soffitto e pareti e così accompagnare e mitigare appunto la lettura della grande diversità tra le stanze questo effettivamente funziona e l'altro punto di attenzione era rastremare le aperture Francesca puoi poi definire queste immagini perché con i tempi richiesti dovessero 45 minuti per lasciare un po' di tempo di discussione proprio di fermarci qui e l'ultimo progetto che questo cantiere che apriva tra poco a Varazze di residenze sarà per una prossima conferenza perché vorrei lasciare ancora almeno 5 minuti alla sala perché è un po' spodato Michele se anche tu rispetto al timing che effettivamente di aprire la discussione con le domande dal pubblico si quindi apriva adesso alle domande del pubblico nessuna domanda non c'è la domanda ah che bello professor Masoero uno spunto interessante sugli argomenti di cui io mi interesso che sono gli impianti e l'acustica a proposito dell'ultimo progetto hai citato displacement ventilation con delle preoccupazioni legittime a cose fatte funziona bene io ritengo che funzioni molto bene e per l'acustica anche quello è un punto sensibile sì difatti no mi interessa a proposito il disegno del soffitto anche per quello ma credo che funzioni bene sì usate questo spazio anche per performance concerti eccetera eh non io però sì l'ultima volta una delle ultime volte ancora stata era hanno portato un pianoforte ed è stato un po' il loro modo per dirmi grazie dopo questi 15 anni ho dovuto ascoltare una bellissima suonata lì quindi con tutte e due no è calce è calce sì in realtà non è sarebbe dovuto esserci anche uno strato di intonaco 10 mm ma per ragioni di cose ero tagliato e quindi sono rimasti 2 mm di calce sì però questa forma è la forma aiuta sì perché tutto è riflettente riflette in modo diffuso quindi dovrebbe funzionare bene è vero è vero e per l'acustica anche molto importante è la parte dei canali certo perché infatti abbiamo fatto poi dopo nella parte del piano terra i canali avevano quasi un'emissione diretta perché l'inventamento aria solo non era interrato e allora abbiamo i flessibili che abbiamo sovradimensionato in lunghezza per poter dissipare attenuare esattamente bello molto bello punti 20 grazie per la tua domanda perché effettivamente quando si parla di bellezza sembra sempre che è un po' un capriccio degli architetti di fare le cose belle poi non pensando poi agli aspetti funzionali concreti in questo caso tipo il fatto che la bellezza rappresenta anche una razionalità che riguarda anche l'illuminazione che riguarda la ventilazione che riguarda anche l'acustica è così importante quindi c'è una coerenza e questo di nuovo è una lezione della storia dell'architettura della grande architettura da sempre che la modernità non deve dimenticare questa lezione no ma infatti è questo che non so se siamo riusciti a trasmettere Piera En che è professore non vi è alcuna arroganza nel parlare di bellezza anzi tremano le veri impulsi ma è importante ricordarci che quello è l'obiettivo ma la bellezza è proprio la la sintesi di tutti questi saperi è molto complesso costruire un edificio e è proprio dal dialogo dalla ricerca per quello anche è bello essere in sede di Politecnico perché è anche importantissimo il dialogo tra università e società tra la ricerca e la professione non c'è vergogna nel fare affari non c'è vergogna nello sbagliare non c'è non c'è vergogna se si cerca di fare le cose con decoro dignità e competenza io sono innamorata io sono innamorata anni 50 altre domande avete il microfono grazie un negozio un negozio a Parigi che sembravano molto simile come a un negozio olivettiano storico quindi la ringhiera che è passata prima ce l'abbiamo ce ce l'avevamo all'interno della nostra sede allora per me è bello vedere rivivere delle situazioni anche proiettate nel contemporaneo nel futuro è quello che dicevo prima siccome tutto quanto già esiste lei sta carezzando Franco Albini sta carezzando anche Carlo Scalva per altre cose che sono aggiungerei poi anche Auguste Perret e Magistretti io penso che la meraviglia che abbiamo preso fatto un paese di pietra dove vi è un omaggio al Duomo di Prato attraverso Ruskin io credo che sia infatti lei è circondato da bellezza e intelligenza e quello quello un po' è il tempo di produzione in Italia a cui più ma in generale a cui più mi riferisco eh su quelli che considero i maestri perché vi era la capacità di coniugare esattamente eh maturità culturale e maturità tecnica e quello è stato tutto quanto un cipiglio una riunione che hanno fatto a Milano credo fosse non vorrei dire sciocchezze forse era anche lì controllo perché avevo scritto non voglio dire i dati era 55 sì dove appunto partecipavano Zanuso e e c'era anche Carlo giovane battagliero e si dibattevano sulla in realtà tradizione cosa è la bellezza è portare una lo dico in forma interrogativa portare una rappresentazione di quel bisogno di muto e di storia narrativa combinato però con intelligenza che le cose devono essere economiche non in senso becero materialistico essere intelligenti forse infatti c'è tutta la ricerca adesso il progetto Avarazze è un sto studiando appunto il tesoro di San Lorenzo di Albini e da tanti anni che sto studiando nervi per cercare di fare un nuovo ferro cemento perché oggi per la normativa è dura e lei citava prima Plas de Vosges e anche lì c'è tutto quanto l'ho immaginato appunto ho non immagina le battaglie con i manager del retail io prima avevo un pregiudizio verso la moda ora ho un giudizio che conferma il pregiudizio dove una volta erano illuminati e tessevano cioè cercano di fare delle cose perché durassero e raccontassero una storia che non è banale e oggi invece è il circo dell'effimera che mi sembra proprio semplicemente stupido e quindi sono incantata e io non so io anche amo sempre dire a chi porgo omaggio da chi imparo e non so se faccio il mio lavoro abbastanza bene però mi è molto chiaro che c'è chi prima di me lo ha fatto in modo eccelso a a lei Luca Gibellio il giornale dell'architettura intanto grazie agli organizzatori per averci portato una progettista che spata molti luoghi comuni molte stereotipi perché vorrei vedere quanti suoi colleghi sottolineo la declinazione di genere maschile plurale hanno un amore una competenza così mi permetta anche ossessionata del cantiere sono rimasto colpito confermo che è un'ossessione ma positivamente quando ho sentito che ha controllato ogni mattone questa è la prima è la prima cosa la seconda è una considerazione legato a un radicalismo del progetto che mi sembra in genere leghiamo i radicalismi al a un'idea di innovazione invece qua c'è un radicalismo che recupera una cultura del costruire del costruito che va addirittura a riprogettare non solo le parole ma l'alfabeto quasi cioè lavorare sul progetto del mattone su come deve stare insieme sulla singola sull'alfabeto ecco ho trovato una cosa una ricerca molto interessante grazie lei è commovente però mette proprio il dito su un aspetto domanda perché certi edifici sopravvivono fisicamente mettendo da lato le tragedie delle guerre adesso ho anche un tempo che fa tremare le vene nei polsi ma perché alcuni edifici sopravvivono e altri no perché alcuni edifici vengono continuamente reinvestiti e altri no e l'ipotesi che ho ora che è veramente un'ossessione pari a quella che ho per il cantiere perché mi piacciono le cose vere non finte vere intendo che poi si vivono si abitano sono a disposizione di chi verrà come come si fa a fare un edificio che inevitabilmente appartiene a un momento storico che vuol dire economico produttivo sociale è inevitabile anche è insensato parlarne perché è inevitabile io sono nata nel 75 è così è la realtà e opero il 2022 ma come si fa a costruire in un modo tale che si può dare continuità a quel bisogno di io lo chiamo anche di mito in senso Levi-Strauss delle pensier sauvage questa capacità questo bisogno fabulativo delle persone senza alcun desiderio di didascalie su come vivere istruzioni per l'uso su come vivere è molto complesso e io penso che ci siano stati proprio in Italia dei dei professionisti e attori culturali veramente che sono come delle stelle comete che non so quando ne passano lì proprio in quel soffio d'anni a bordo di apoguerra forse perché l'Italia è così straziata dalle ferite di questa guerra civile no? non lo so ma è proprio quello che come la mia sessione è come faccio a lavorare come come posso sperare di poter costruire un edificio che può avere valore per persone che non conosco che non vedrò mai e che nasceranno dopo di me quindi appartano ancora un altro mondo ma appartenere anche a tutti quelli che io non ho vissuto non è una domanda che ha una risposta penso è proprio una domanda continua la ricerca delle permanenze altra domanda? salve innanzitutto grazie mille per la bellissima presentazione la mia domanda da studente è noi generazioni future qual è la bellezza che secondo lei dovremmo perseguire? che bello che è uno studente prima cosa penso che non dovrebbe nulla dovrebbe riflettere con la sua testa su quello che lei pensa sia importante quindi lei è sull'università e ha un un tempo che è un privilegio una bellezza è una bellezza il tempo che sta vivendo per confrontarsi con punti di vista molto diversi e costruire la fiducia nella sua capacità critica di scegliere cosa per lei ha valore e in quello investire sé comprendendo anche le capacità di sacrificio che ha dove non vi è misura per tutti lei incontrerà la sua e i suoi colleghi intorno ne erano altre se posso aggiungere qualcosa da visto che sei un studente di architettura immagino io sono un professore di architettura quindi rispondo da professore questo tema della bellezza è qualcosa che attraversa tutte le discipline quindi non va interpretato secondo me nel senso di dell'estetica delle forme dell'architettura si parla anche della bellezza di una dimostrazione matematica la bellezza di una formula o la bellezza di una soddisfazione si parla di Pierluigi Nervi per esempio che la bellezza di fare una soluzione che insieme è elegante e economica perché c'è l'economia dei materiali per esempio questo è una soddisfazione del pensiero del pensiero umano quindi è qualcosa che va al di là di un aspetto completamente estetico perché dico questo perché oggi molto spesso soprattutto per le nuove generazioni che sono nate con con sette nativi digitali quindi nati con un consumo delle immagini c'è sempre questo rischio della riduzione dell'architettura un aspetto puramente formale esteriore e quindi superficiale e efimero questo è il vero il vero dramma con la bellezza effettivamente una sua consistenza e una sua durata la questione è perché continuiamo a ammirare il partenone e non è legato solo a un fatto che c'è un canone di bellezza definito anche da in questo caso da formule anche matematiche e dovuto proprio del fatto di un pensiero che possa durare nel tempo quindi credo che la bellezza va al di là effettivamente della soddisfazione puramente estetica però credo che Francesca ha ragione che l'invito sempre che facciamo gli studenti di trovare la vostra strada perché proprio è conquistare anche capire qual è il ruolo degli architetti questo è un aspetto molto importante prima Luca Gibello parlava del cantiere della passione del cantiere qualcosa che molto spesso si è perso perché c'è stata questa drammatica separazione tra l'aspetto diciamo della concezione del progetto si usa spesso in inglese la parola concept design e dopo viene ingegnerizzato questa orribile parola dell'ingegnerizzazione come per dire dopo il pacchetto va in mani di altri che lo realizzano in Italia abbiamo questo dramma che è il fatto della legge anche degli appalti del fatto che normalmente di norma per un edificio pubblico non viene mai pensato che un architetto va fino in fondo dal primo schizzo fino alla fine del cantiere perché se tutto va bene al massimo avrà una direzione artistica quindi c'è anche questo fatto delle gare delle responsabilità e credo che c'è anche una riflessione da fare visto che siamo nel progetto di Torino che riguarda la formazione io non sono anni che dico che una buona parte degli studenti che quando fanno una loro atria nell'architettura se non hanno una vera passione o talento per il progetto nel senso olistico di mettere insieme tutte le discipline è molto importante una specializzazione per diventare direttore dei lavori nei cantieri molto importante è un mestiere meraviglioso essere un direttore dei cantiere l'amore proprio della materia della costruzione immagini una generazione di direttori di cantiere che hanno avuto una formazione di architetti però dopo si specializzano proprio per assecondare realizzare al meglio l'inizio degli architetti quando si toglie agli architetti il controllo direttore del cantiere per una legge che è ridicola quindi anche questo è importante formare dei direttori formare delle nuove professionalità di persone che amano l'architettura senza necessariamente essere dei progettisti perché il momento del cantiere è anche un momento di progettazione che continua e questo è importante perché sono figure anche professionali che esistevano tu citavi nell'anni 50-60 tutte le figure comprese anche Giorno che hanno una grandissima professionalità abituati a lavorare con gli architetti mentre molte di queste professionalità oggi non esistono più e penso che anche all'università è importante formare queste professioni che sono spesso considerate delle professioni di serie B mentre potremmo dire a molti studenti cercate anche una via che non è necessariamente l'immagine dell'architetto tipo professionista che fa tutto no che parole sagge per lo studente poi si vede che bravo professore Piero Alen e continuando su questo lei oggi è venuta con i suoi colleghi un sabato pomeriggio questo già dichiara una sua curiosità un suo appetito una voglia di scoprire quindi quella è una buona bussola poi da professore Piero Alen dicevano da professore effettivamente è difficile oggi la folla di immagini che c'è che avete immagini che piovono da ogni dove tra Pinterest Facebook Instagram un buon antidoto è la biblioteca perché porta una lentezza del cercare le cose anche che vi crea un po' un tempo di calma cioè studiare la storia è il un po' il migliore antidoto per la scioccheria del mare magnum che assedia particolarmente lei e i suoi colleghi perché è quello il tempo quindi ci vogliono un po' di antidoti e poi è bellissimo quello che dice Piero Alen veramente come invito è è una strana anomalia di un tempo recente quella che è uno studio architettura e c'è solo l'apertura dello studio autonomo perché la cosa stupenda del 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 fare un edificio quello si fa in tanti in tanti e io penso che christoph mutter sia migliore di me il direttore di cantiere che aveva la capacità di raccogliere tutti quanti i malumori di qualsiasi subcontractor e muratore che parlava in più lingue e un sacco di competenza e lui era un ingegnere che poi aveva scelto di fare il direttore di cantiere perché era appassionato del vedere le cose diventare vere e era appassionato dell'inventare soluzioni bene francesi mi sono un'ottima conclusione perché ho fatto il segno che dovremmo chiudere qua grazie a tutti grazie 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 a tutti che bello grazie grazie